Dal 2010, la seconda domenica di ottobre, a Nicosia si celebra la Madonna dei Raccomandati, evento carico di significato religioso e storico. La satua in legno di Nostra Signora dei Raccomandati è stata restaurata nel 2009 e risiede nella chiesa nicosiana di Santa Croce. Da allora la comunità ha scelto di dedicare un giorno ad onorare questa Madonna, da cui deriva il nome, ed il cui simbolismo è evidente nei vessilli e nel palio della confraternita di Nostra Signora dei Raccomandati. La data selezionata per questa celebrazione è la domenica successiva alla festa della Madonna del Rosario. Il programma della festa ha incluso un triduo di momenti di preghiera che si è svolto dal 5 al 7 ottobre e che ha compreso la benedizione di bambini e donne in attesa, oltre ad una messa speciale dedicata alla carità. Un interessante sviluppo della festa è stato il ritrovamento casuale di una raffigurazione pittorica della Madonna dei Raccomandati su una tela custodita nella piccola chiesa di Sant'Antonino. Questa scoperta ha aggiunto un'ulteriore profondità alla celebrazione ed ora le confraternite commemorano questa immagine con una piccola processione che parte dalla chiesa di Santa Croce e giunge fino alla chiesa di Sant'Antonino, dove si tiene una messa speciale dedicata alle famiglie, rendendo omaggio alla Madonna dei Raccomandati. La celebrazione principale della festa, che quest'anno è avvenuta l'8 di ottobre, è stata preseduta da Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo della diocesi di Nicosia, aggiungendo un tocco di solenità e devozione all'evento. La festa si conclusa con il tradizionale spettacolo di giochi pirotecnici, momento di gioia e festeggiamenti che simboleggia la gratitudine e la gioia della comunità di Nicosia a non celebrare l'amata Madonna dei Raccomandati.